Aslo occupata fino a quando non si avranno novità sulla questione accreditamento. E' la decisione presa questa mattina dai lavoratori della nuova Ises di Eboli. Alla base della protesta, l'assenza di risposte da parte dell'azienda sanitaria locale sulla revoca della sospensione dell'accreditamento per la struttura dedicata alla riabilitazione. Si ripete il palleggiamento tra Aslo e Regione. La Regione si doveva pronunciare nella prima decada di settembre con una situazione finale. E da questo sta succedendo, anzi si sta ripetendo la telenovela delle responsabilità. Palleggiamento tra Regione e Aslo. Detto lei bene prima, questi stanno affrontando con spese personali un debito di 1.350.000 euro. fatto perché l'Aslo ha fatto l'ispezione sulla delocalizzazione, il nuovo presidio, ha ritenuto che ci siano tutte le condizioni per poter esercitare e quindi su questo loro stanno affrontando questo debito. E non è giusto. Quindi l'Aslo o la Regione decidono loro. Noi crediamo che sia l'Aslo a prendere la sua decisione definitiva. La verità vera è che stanno giocando sulla pelle dei lavoratori e dei disabili. Come ben sappiamo le liste di attesa per le prestazioni a persone disabili sono lunghe e difficilmente in tempi brevi l'Aslo potrà dare risposta a questi bisogni di assistenza. Però stiamo nell'assurdo che pur essendoci una struttura che ha tutti i requisiti di legge l'Aslo tendina a dare il suo sì. Il problema è un altro, il problema è capire perché l'Aslo si sta comportando così, perché la Regione si sta comportando così. Quando una struttura ha tutti i requisiti di legge, deve essere concessa la possibilità di poter lavorare. E in questo caso stiamo parlando di lavoratori che hanno investito sul proprio futuro. Non hanno chiesto una lira a nessuno. Hanno impegnato i loro fondi e stanno assistendo egregiamente 20 ragazzi disabili. Tutto questo gratis per l'Aslo e per la popolazione. Ripartire alla grande e non ripartire normalmente addirittura la possiamo dichiarare uno dell'eccellenza come struttura e come personale impiegato fino adesso. Ma una cosa che non è banale, voglio ritornare un po' indietro per le responsabilità visto che facciamo memoria storica. Siamo passati con dirigenti dell'As come Postiglione, Longo, Giordano e adesso l'attuale Iervolino dove tutti prendono una posizione sul futuro di questa azienda e alla fine ci ritorniamo a un punto di non ritorno. La motivazione ce la devono spiegare, visto che adesso il sindacato fa memoria storica di tutto questo processo, non è che è entrato adesso nell'evoluzione di questa faccenda. Ci è entrato già dall'inizio. Adesso speriamo che sia la fine in bene e in un modo o nell'altro. Perché poi dichiariamo le responsabilità di queste persone davanti alle persone che perderanno sicuramente dopo ben quattro anni di sacrifici. ci lo vogliamo ricordare, visto che i colleghi prima hanno già recitato la storiella perché è una storiella infinita, diciamo sempre le stesse cose stamattina ci dicono sì o no definitivamente e poi ognuno si prende le proprie responsabilità.